L'ostinazione della scrittura Quale follia si cela tra le pieghe di sieni di donna allattanti bambini poeti Fassidiosa persistenza Odore inchiostrato blu a cadere su un soffitto tirato giù da un vento ostinato Ostinazioni di gesti, di mani, di vorticosi sogni viscerali Spirali liberi di alfabeti sconnessi Disalberati come vascelli fantasma alla batteria di Lepanto E poi liberi, liberi, liberi Ostinatamente allineati come plotoni di esecuzione Soldatini di piombo tra A, B, C, D E le palle di cannone senza idee Che cercano la carne L'ostinazione della scrittura e tortura E battaglia fumogena E corrono all'arma bianca Baionetta innestata E foto in bianca e nero di donne e bambini moji Gli scrittori corrono da un buco all'altro con le coste a metà E gli archibugi come le penne E le penne come gli archibugi E il fuoco di fila che fa vuoti e riempi di colori le illustrazioni Ma cos'è la scrittura? Se non l'ultimo assalto alla baionetta affilata con la saliva Correggi il tiro Alza il moschetto Prendi la mira Sospendi il respirare Pam Cade un poeta laggiù nel vallone Tra i sassi bianchi e i ciuffi d'erba spenti Coraggio ancora Correggi il tiro Alza il moschetto Prendi la mira Sospendi il respirare Ancora Pam Coraggio Il sole è alto E la poesia non è ancora morta È ostinazione viva Che esce dalle ferite Inneggia e canta Predicando in stola con le mani alzate Palmi bianchi e pam Cadono i poeti Sgurgano i poeti Ostinatamente allineati come plotoni di esecuzione Soldatini di piombo Reggimenti Divisioni Armati di poeti Scrittori e scrittori poeti Non ti stancare Correggi il tiro Alza il moschetto Prendi la mira e sospendi il respirare Pam È un altro libro Un altro giro di giostra Vara i sogni di bambini poeti Allattati da donne Su foto in bianco e nero Il sacro rituale stava cominciando perfettamente in orario Le 33 vergini con i lunghi capelli raccolti Si erano disposte in cerchio sulla piccola radura al centro del boschetto I corpi nudi delle giovani cominciarono ad oscillare Creando un movimento ipnotico agli occhi dei cinque uomini nascosti dietro gli alberi Un canto cupo proveniva dalle fanciulle Un suono quasi univoco Si intitola così in quanto c'è questa mostra di opere d'arti Che riguardano la palude pontina Terracina era l'ultimo luogo salvifico che c'era dopo la campagna romana E quindi la malaria purtroppo ha flagelato quella zona E io parto da questo pretesto per far succedere furti e omicidi Da lupo solitario quale sempre era stato, Virgilio Meconi, per gli amici Siddharta Era passato ad essere un lupo socievole Nel giro di un anno, infatti, la sua vita era cambiata Come quella di un po' tutta la città del resto Soprattutto dopo i noti fatti di cronaca dell'estate precedente Con tanto di omicidi seriali e cattura del doppio serial killer Lui è un personaggio tipicamente italiano Tipicamente italiano perché ha paura, ha paura di molte cose È fobico in tantissime occasioni E l'unico luogo in cui si sente veramente se stesso è il palcoscenico Perché lui è un attore di teatro E l'unica volta che non si sentirà se stesso è quando succede qualcosa in teatro Avviene un omicidio e quindi lì avrà paura Siddharta aveva scoperto di essere padre Aveva appreso che sua figlia aveva avuto una bambina E per di più che quella bambina, oggi maggiorenne, aspettava a sua volta A neanche 45 anni da single era diventato di colpo bisnonno Secondo me c'è una sorta di ossessione della morte E quindi ci sono gli scrittori come me ossessionati dalla morte Che tentano di esorcizzarla scrivendo la morte degli altri O dei personaggi In questo caso infatti il protagonista Edoardo Scarpa Che è protagonista anche del mio primo romanzo Apnea E del terzo che sto scrivendo Diciamo che è un po' il mio alter ego Se così vogliamo definirlo Cerca di esorcizzare la morte proprio scherzando e ridendo L'unica volta che non lo fa è quando vede il sangue perché sviene Perché dovrei fidarmi di voi? Cosa c'è di male nel farmi conoscere il vostro nome sacerdotessa? Chiese con un fugace sorriso Leonardo La locandiera dai lunghi capelli sentì dentro di sé Che quel gioco poteva rivelarsi pericoloso Se non mortale decise di continuare ad omettere la sua vera identità Fino a quando non fosse stata certa della totale sicurezza della sua persona e del suo segreto La contaminazione più grande che ho è quella di Daniel Pennac Autore francese che scrive di questo capro espiatorio Infatti il mio Edoardo Scarpa ha un po' questa cosa che Così come la signora Fletcher dei telefilm Capita sempre dove c'è qualcosa, qualche omicidio, qualche furto Anche perché vivendo in una città come Terracina Che è abbastanza grande ma anche abbastanza piccola 45.000 abitanti Bene o male ci si conosce tutti Ed è facile capitare dove succede qualcosa Tornate questa sera Messer Leonardo Disse indicando alcuni avventori appena entrati nella locanda Ho da lavorare ora E fece per andarsene Mia figlia frequenta la prima elementare di una scuola della periferia della città dove vivo Io oltre ad essere rappresentante dei genitori al consiglio di interclasse e dal consiglio di istituto Sono pure Babbo Natale uscente Quando ancora la bimba andava alla scuola materna D'accordo con le maestre Un giorno di dicembre prendevo le ferie o un permesso orario E interpretavo questo ruolo di cui sono sempre andato molto fiero Questo libro nasce da un'esperienza reale Ci sono le lezioni degli organi collegiali della scuola Io naturalmente, mia figlia fa la prima elementare, mi ero occupato sempre del mio ruolo di genitore Avevo fatto anche il Babbo Natale quando mia figlia faceva l'asilo a scuola materna E naturalmente mi è stata la possibilità di occuparmi E quando ho cominciato a vedere le difficoltà che c'erano Siccome avevo o a cuore l'avvenire mia figlia Ho cercato di dare il massimo di me stesso e anche di occuparmi di questa situazione E' per questo che ho cercato di dare importanza a questa candidatura E' nata questa sorta di racconto dello smarrimento di un genitore Il momento storico nel quale si inquadra questa strana contesa elettorale Riporta alla luce la vera emergenza del nostro tempo L'educazione Anche la nostra carancona è stata recentemente scossa dai visori che definire di disagio giovanile è poco Tanto che se ne sono occupati anche i giornali e le televisioni di tutta Italia Una delle grosse tragedie dell'attuale scuola italiana è quella del fenomeno del bullismo Io l'ho esaminato dal punto di vista dell'orzinbello, della vittima In quanto molte volte l'orzinbello non viene alla luce Perché molte volte le persone tendono a vergognarsi di dirle anche che hanno subito Questo bullismo segna la persona per tutta la vita Molte volte ci sono delle persone anche a livello della politica o del mondo degli adulti I quali diventano poi rancorosi, hanno questa sofferenza da far uscire fuori Io ho cercato di risolvere il problema del bullismo attraverso il ricorso all'ironia Che l'ironia è l'antidoto per risolvere tutte le difficoltà Ma torniamo al tema principale Le elezioni scolastiche Avremmo modo di parlarne, tanto io da qui non mi muovo Ma prima vorrei mettere in guardia i potenziali lettori Circa le gravi ripercussioni che la lettura di questo scritto potrebbe generare in loro Soprattutto a livello psichico Nel caso di questa storia, un po' burlesca Accade che di fronte all'elezione e gli organi collegiali c'è una lista che si improvvisa Una lista blindata che cerca di conquistarsi una fetta di potere Qui nasce questa storia, questa vicenda in quanto di fronte alla presentazione della lista pilotata C'è questo candidato al Consiglio Istituto che porta avanti anche la propria lista E nasce quindi una competizione editoriale vera e propria E qui c'è un discorso di senso civico In quanto l'elezione è uno dei momenti più importanti Della partecipazione dei cittadini alla vita della società Mia madre stava seduta su una sedia Abbassava la testa e mi rispondeva con le lacrime Me ne andrò perché non c'è mai dialogo tra madre e figli Leggevo dal silenzio le sue urla del parto Il guinzaglio ombelicale che non si spezzerà mai E ricordo Torino Le case che ci custodirono dove aspettammo mio padre di ritorno dalla fabbrica Le sue nottate a ricamare preumatici Nei capannoni della Pirelli ovviamente Le urla che risalivano dai pozzi Delle scale di noi alcolizzate Ed un pittore fusare Ricordo le sue tracce colorate che ci mostrava invitandoci ad entrare E noi bambini dispettosi e cattivi e critici della vita Diluita nei colori spenti Noi giurati improvvisati Ascoltavamo Devo procurarmi i sassi all'isola dei cani Prima che il mare se li porti via tutti Passare da Nico E sgasare fino a scuola Concetta adesso sta quasi uscendo Prima però mi devo vendicare Basteranno due pietre ben lanciate L'ufficio del preside Minchia morte al terzo piano Si affacerà urlando Come una donna prena Polizia polizia Tieni Ricchione patentato Te te la do io la polizia E allora fughe Fughe, fughe Fughe dalle casse integrazioni Dalle lotte sindacali Dai comizi Di mio padre e delle sue morali E dalle notti di straordinarie Dalle nebbie di ritorni a casa E dagli operai difesi E dai consigli di fabbrica E non dobbiamo arrenderci Perché il sangue ha colorato le bandiere E chi colorirà le mie E chi le difenderà Dalle tentazioni delle nebbie della notte Eccetera eccetera Deve sparire dalle intimidazioni E dalle battaglie che bruciano I ricordi I ricordi e le mazzette Da ritirare in tempo Il libro da non leggere Di questa puntata Di Book Generation È Meccanica Celeste Di Maurizio Maggiani Ebbene In una società dove Tutto è frenesia Tutto è corsa Tutto è fast food Un libro che si ferma A raccontare delle storie In una valle Che è la Garfagnana E racconta delle storie lente Fatte di donne Di uomini Di bambini Ambientate tra il 1944 Ma forse anche prima E fino ai giorni nostri Ebbene Questo libro Che racconta delle storie Ed è un romanzo corale Lirico Di un popolo E di una valle Ebbene Appare quasi inutile oggi E per Maurizio Maggiani Potremmo applicare La stessa regola O forse dovremmo Applicare la stessa regola Che fu applicata Ad Antonio Gramsci Dal Tribunale Speciale Ecco bene In quell'occasione Il giudice Del Tribunale Speciale Ebbe a dire Dobbiamo impedire Al cervello di quest'uomo Di poter continuare A funzionare Ecco Maurizio Maggiani È un narratore Un raccontatore Di storie lente Che ci appartengono Che sono dentro di noi Che sono forse inutili In questa società Che corre Freneticamente Verso il nulla Ebbene Il libro da non leggere Di questa puntata Di Book Generation Era La meccanica celeste Di Maurizio Maggiani E adesso Buttate il telecomando E andate a leggere Un bel libro E andate a leggere